Seconda, si è adesso Pronti a prendere via Sì, anche il tuo Partita in questo momento La prima semifinale in genuario mattia A prendere la guida Delle gara a Arti Quadria In seconda posizione Con il quale sono il metico pubblico Perché cadono? Come? Perché cadono se fanno così Non va bene Guarda lì Vedremo tra un mondo I concorrenti della prima semifinale Superare il passaggio Di due giri all'interno Come possiamo vedere È ribattissima Ora a vedere il gruppo E' verità mattia Della fornitutiva Il gruppo però Raccolto il compasso Di concorrenti alle nuove spalle In verità a genuario In seconda posizione Di cremaschi Andrea Finco Partito Queste le prime 5 posizioni Per un gruppo Ancora Con il basco Ancora In seconda posizione No, non so quanti ne passano e poi solo la rotta linea finale prima del riguardo conclusivo